star bene e salute terra ambiente relazioni qui tratteremo di salute come stile di vita e come ricerca dell'equilibrio in noi nella collettività e nell'ambiente parleremo di salute ed emozioni con la dottoressa adonofi praticheremo le antiche arti di supporto alla salute del ciclo e dello yoga e conosceremo l'intelligenza del tocco nel massaggio infantile qui alle scalette di via Nicola Palma in un angolo di pace nel cuore della città